Grazie a tutti. I comunitari in questione in Francia e in Germania sono state rispettivamente ricepite e trasposte dal Ministero dell'Economia e della Finanza e dal Ministero dell'Economia, cioè dall'allora Ministro Messier Macron e ovviamente da Sigmar Gabriel. Evidentemente il tema è un tema di regolazione deficientemente dei mercati. Il caso italiano è un po' diverso naturalmente e in realtà questo testo mi sembra più, giustamente peraltro, ma un testo di politica industriale, diciamo, piuttosto che semplicemente di regolazione dei mercati. Però io credo che la prima considerazione che noi dobbiamo fare è di che cosa stiamo parlando, nel senso di che settore è quello di cui trattiamo. Perché in questo settore abbiamo Pietro Salini che con grande abilità ha portato oggi il suo gruppo a 6 miliardi di fatturato, avvicinandosi a una soglia che è quella di 10 miliardi ragionevole sui mercati internazionali. E poi abbiamo però l'artigiano che come ditta individuale gestisce nel modo in cui vi lascio immaginare cinque cantieri differenti. Allora, nello spazio tra Pietro Salini e l'artigiano, che probabilmente qualche liceità la commetterà, in questo spazio noi dobbiamo ragionare. Quindi quando parliamo di cultura industriale ovviamente questo è il punto di partenza. Io credo che ci sia una prima questione di fondo, cioè il nostro è un mondo per definizione legato al tangibile, all'aggettuale, diciamo un'eresia persino agli architetti comunque, come dire, che sono in più astratti. Io sono architetto ovviamente, ma in realtà hanno, come dire, una cultura aggettuale perché progettano poi dei manufatti. Infatti giustamente lo stesso Pietro Salini recentemente ha detto noi ci occupiamo ancora di cose che si fanno con le mani. E naturalmente questa, come dire, oggettualità evidentemente la ritroviamo in tutta la filosofia che oggi anima quello che giustamente il rettore di questo Politecnico chiama il futuro dipartimento della prevenzione presso la presidenza del Consiglio di Minissimo, che poi volgarmente viene chiamato Casa Italia. Però il problema di fondo è che la digitalizzazione, come giustamente osserva Stefano Quintarelli, è sinonimo di immateriale. Cioè sostanzialmente sinonimo di una cultura del servizio, infatti anche in termini di produzione, diciamo, manifatturiera digitalizzata, di fatto si parla di servitizzazione. E quindi, come dire, ha a che fare con una dimensione che poi è quella in soldoni di rendere, diciamo, i cespiti immobiliari infrastrutturali, come dire, veicoli per erogare dei servizi. E questo è già molto evidente in tutta la filosofia del partenariato pubblico-privato, perché è l'oggetto non solo del contratto, ma anche del profitto, è quello. La questione di fondo è appunto legata al fatto che questo non appartiene a questo settore. Allora, giustamente, l'amico Mark Bue, che è a capo della strategia del governo britannico sulla digitalizzazione del settore delle costruzioni, sostiene che il nostro sia l'ultimo bastione analogico in ambito industriale. Questa è ovviamente una considerazione di fondo. Naturalmente vi risparmio la traduzione, ma recentemente, per l'ennesima volta, un committente pubblico, in questo caso la città-stato di Berlino, sostanzialmente andando a bandire una gara, in cui, in modo più parzialmente corretto, mi avviso, ma comunque, il Building Information Modeling è richiesto, ne fa un'elencazione in termini di efficientamento, in termini appunto di tutta la, diciamo così, liturgia, insomma, della collaborazione, dell'integrazione che, diciamo, connota questo tema. Nello stesso tempo, però, come dire, noi sappiamo che non solo in Italia, ma più recentemente anche in Italia, si gioca una partita che direi molto più importante, che peraltro parzialmente, ovviamente, riguarda anche il settore delle costruzioni, che è quella appunto del piano nazionale Industria 4.0. Io, personalmente, essendo bresciano, diciamo, sono particolarmente sensibile a questo tema, perché in realtà l'indotto bresciano della meccanica, o meglio, il tessuto bresciano della meccanica, così come quello bergamasco, di fatto è davvero 4.0, nel senso che è confrontato con il tema, come essendo, diciamo, soprattutto per quanto riguarda l'automotive, formitore della industria di Firpunul vera, ovviamente, che è quella germanica. Ecco, allora, naturalmente, quello che noi stiamo cercando di fare a Brescia, come sistema Brescia, quindi come istituzioni, ma ovviamente soprattutto come tessuto produttivo, è, diciamo, immaginare, appunto, all'interno di questo tema di Competence Seller, diciamo, un ruolo che poi possa vedere a Brescia, manifatture, costruzioni, come dire, accomunate in questo 4.0. Però, in realtà, la mia impressione, qui uno scambio con il Ministro Calenda, è che, sostanzialmente, noi abbiamo troppo enfatizzato l'aspetto strumentale del 4.0. E, naturalmente, Lucimo è molto contenta, Comao si aspetta fatturati in crescita, ma la mia impressione è che ci sia un equivoco, nel senso che, non c'è dubbio che nella meccanica, come dire, l'aspetto strumentale sia importante, ma, come dire, il 4.0 è soprattutto l'intelligenza, in parte artificiale, ma che comunque sta dietro le connessioni tra uomini e macchine. E quindi, tra l'altro, a lungo, come vedremo, la catena di fornitura. E' ovvio che, come dire, il commissario comunitario Oettinger, che è, effettivamente, la persona più sensibile a questi temi della digitalizzazione, in termini di competitività del sistema comunitario, ci colloca, naturalmente, come settore delle costruzioni, nei due ambiti, ahimè, più, come dire, scomodi. Il primo è quello di essere un settore tradizionale, ma, appunto, già altri, come dicevo prima, ci hanno definito come tali. E il secondo è essere caratterizzato, appunto, da una, diciamo, piccola e media dimensionalità. Ma io credo che anche qui noi dobbiamo fare un ragionamento, come dire, più sincero, cioè, togliendoci alcuna, una parte della cera. E il fatto è che, sostanzialmente, noi non siamo un settore caratterizzato dalle piccole e medie imprese, siamo un settore caratterizzato dalle micro imprese. E questo è un dramma. Ovviamente, sia sul versante della domanda, dove peraltro i processi aggregativi sono in corso, sia sul versante dell'offerta, questo è uno degli elementi delle sfide 4.0, però questo era anche, mi sembra, un elemento che Firpo, il Ministero dello Sviluppo Economico, volesse valorizzare in termini di incentivi, non solo i superammortamenti ai macchinari. E certo, ovviamente, avere centrali di committenza, avere altre forme aggregate, soggetti aggregatori e quant'altro, può moltiplicare anche, come dire, il potenziale corruttivo. Però mi sembra una via obbligata, se noi vogliamo fare dei ragionamenti, nella direzione, diciamo, di una cultura industriale, della digitalizzazione, e quindi, ovviamente, diciamo, non del contrasto alla corruzione, ma appunto dell'efficientamento dei mercati, come mi sembra Anna, che spesso ripeta, diciamo, agire sugli elementi culturali, anzitutto sociali e culturali. Ma io credo che il problema, dicevo prima, di questo settore, è che è un settore che ha un immaginario troppo materiale, troppo tangibile. Perché vediamo qui questi pesci? Non solo perché è appena uscito Dori, anzi, il vittorio di Dori, ma perché, sostanzialmente, come molto tempo fa, affermava Adolf Goh, uno dei grandi architetti del 1900, e qui ha riportato una testimonianza alla sua terza moglie, Claire Beck, e, sostanzialmente, Loss si legge in cantiere e dice, bene, al cliente, in questo punto, lei passerà, diciamo, i momenti migliori della sua vita nel suo appartamento, perché potrà contemplare l'acquario. E il cliente, ovviamente, è sconcertato da questo. Loss, evidentemente, aveva un immaginario immateriale. Ma, appunto, dicevo, con Mark Buh, in varie sedi internazionali, diciamo, costantemente ragioniamo, ovviamente, siamo sempre confrontati con quegli estremi di cui parlavo prima. Da una parte abbiamo un processo di efficientamento, diciamo, di questo settore, che purtroppo non è resiliente, ma è resistente. Molti l'hanno definito il settore reluctant industry, cioè il settore riluttante, e è un settore che è impegnato da cent'anni a contrastare, devo dire, efficacemente la cultura industriale. È un grande successo. E quindi, sostanzialmente, da una parte dobbiamo, come dire, vedere dei grandi traguardi che, appunto, i britannici hanno ormai individuato come Digital Bill Britain e il vecchio cancelliere Osborne ha comunque stanziato 15 milioni di sterline nei prossimi cinque anni per questo, ma poi la sfida vera che è quella di digitalizzare un tessuto minuto. Però, ripeto, la sfida vera è quella che, appunto, Accenture definisce come l'orizzonte dei cosiddetti living services. Sostanzialmente, come dire, è una dimensione della digitalizzazione che, peraltro, non è solo dell'economia, ma è anche della società, che soprattutto sarà della politica, perché il messaggio elettorale sarà in futuro individualizzato. Nel senso che le analitiche consentiranno di, diciamo, stracciare, dialogare ciascuno di noi essendo conosciuto per i suoi comportamenti. È una prospettiva un po' inquietante, ma è una prospettiva a tenere in considerazione. Allora, diciamo, quando noi parliamo di 4.0, quando noi parliamo di BIM, che ovviamente sono due temi che non possono stare sullo stesso piano, ma semmai il BIM per il nostro settore, appunto, di muratori, è una porta d'ingresso a questo mondo molto più ampio, sostanzialmente noi dobbiamo, però, appunto, anzitutto agire, e questo credo che sia molto importante, non sugli aspetti strumentali, ma soprattutto sugli aspetti legati ai quadri giuridici e ai quadri organizzativi, perché in realtà questo della digitalizzazione è un'innovazione che si presenta come incrementale, nel senso che si promette di efficientare dei processi esistenti, ma in realtà è disruptive, come si dice, cioè questi processi esistenti nel medio-lungo periodo, se non altro, li distrugge, li stravolge, e quindi è un'innovazione radicale, non è un'innovazione incrementale, e ovviamente quello che appunto i tedeschi chiamano ottimizzazione, nanismo, frammentazione in questo settore, che peraltro in realtà è tanto intenso in Germania, così come in Italia, è uno dei problemi, è una delle leve su cui agire, e devo dire che, appunto, onestamente, ad oggi, in termini di strategie industriali, è più la domanda pubblica che non l'offerta privata che si sia mossa, però il problema della digitalizzazione e anche del BIM è che l'efficientamento, e quindi quello che noi chiamiamo economia, da questo punto di vista non è solo di scala, quindi non è solo legato alle dimensioni, ma è soprattutto di scopo e di conoscenza, e quindi qui, come dire, si pone un problema, che tra l'altro non è solo italiano, e che è ben riflesso dagli andamenti divergenti, dei tassi di produttività nel manifatturiero e nelle costruzioni, appunto, legato a, come dire, gli aspetti culturali, strutturali di questo mercato. E questo è uno dei grandi temi, ovviamente, su cui confrontarsi. La questione, però, non è così semplice, perché, appunto, come dire, va a incidere sulle catene di fornitura, appunto, sulle catene di forniture esistenti, sulle supply chain future, ma, sostanzialmente, questo ovviamente vale anche per la manifattura, ma, sostanzialmente, il vero problema è quello dell'identità minacciata, cioè, che, come dire, le rappresentanze, sia all'interno delle audizioni tenute nella commissione ministeriale al MIT, sia, ovviamente, presso il Parlamento e le altre entità deputate, come dire, critichino il codice degli appalti, avanzano riserve, eccetera, è assolutamente, direi, fisiologico, fa parte di un gioco, no? delle parti. Ma, il problema di fondo è, evidentemente, che qui dobbiamo capire, come dire, qual è la posta in gioco. E la posta in gioco, ovviamente, nei prossimi, diciamo, dieci anni, è l'efficientamento, nel senso che, nel Regno Unito, il messaggio politico legato al BIM è stato, non risparmi, genericamente, ma, ad esempio, con le risorse che tu hai a disposizione per costruire cinque scuole ordinariamente, ne costruisci sette. Questo è un aspetto importante, ma questo ha a che fare con una promessa di efficientamento che, ovviamente, è l'unica promessa spendibile per, diciamo, coinvolgimento diretto in Francia, come in Germania, oltre che nel Regno Unito. È ovvio che, quando noi ci confrontiamo, ad esempio, con i quadri contrattuali o con i quadri assicurativi, diciamo, l'affermazione generale è tutto ciò che ha a che fare con la digitalizzazione aggiunge, migliora, efficiente, ma non cambia gli aspetti strutturali. Ora, questa è una grande ipocrisia, ovviamente è una grande, come dire, menzogna, in senso positivo, che noi dobbiamo dirci, perché altrimenti non potremmo accettare questo percorso, che, peraltro, è una bugia, come dire, che ha un valore a cinque, dieci anni, nel senso che cercheremo sicuramente di lasciare il più possibile inalterato il quadro, ma comunque ha a che fare con una prospettiva che è stravolgente, ed è quella che io definisco delle identità minacciate. Nel senso che, come dire, se quel diagramma di prima, che più ha messo a punto, di cui appunto discutiamo, in varie sedi internazionali avrà successo, che poi è, come dire, uno dei aspetti, è una delle intime essenze, anche del 4.0, beh, questo tra 15-20 anni, diciamo, questo settore sarà riconoscibile. Allora, è chiaro che, come dire, se io sono minacciato nella mia identità, evidentemente la reazione che avrò, come dire, non sarà semplice. E quindi, naturalmente, di fronte a questa posta in palio, beh, l'attendismo, appunto, si dice, perduto nella riflessione, dobbiamo sempre riflettere perché riflettere è necessario, naturalmente è la risposta più, come dire, ragionevole, più logica. Ma in realtà, noi sappiamo, abbiamo visto appunto, nella staffetta olimpica degli Stati Uniti, che in realtà è una staffetta generazionale, Phelps e persone che, come dire, hanno assistito da bambini ai primi successi suoi, no? Ecco, allora, come dire, questa transizione, che appunto è sia digitale che energetica, pone un grande problema di divari, avverrà in maniera diversificata, in realtà in maniera che molto spesso noi non riusciamo a comprendere appieno, poi la definizione di esperto è di colui che sta facendo esperienza e quindi, naturalmente, però ripeto, noi dobbiamo agire sui quadri giuridici e sui quadri organizzativi prima di qualunque altra cosa, perché appunto, diciamo, dobbiamo mettere a sistema. Io devo dire che purtroppo, naturalmente, questo paese dove, non sappiamo, da Paul Ginsberg, appunto, a Galli della Loggia, le parole come nazione, patria, sono molto problematiche, ancora oggi, però, voglio dire, manca il sistema paese, questo è evidente. È una, come dire, è un fatto culturalmente connaturato, storicamente connaturato, così come quello legato ai fenomeni corruttivi. Allora, ovviamente, fare sistema vuol dire, ecco, 4.0 dovrebbe permettere di fare sistema e anche l'Accademia dovrebbe avere un ruolo in questo, però il problema di fondo è che in questa transizione, quando noi parliamo, ad esempio, appunto, diciamo, di Casa Italia, allora dobbiamo capire che evidentemente c'è un progetto, come dire, imprenditoriale di intrapresa che è un progetto, come dire, territoriale, perché di cosa stiamo parlando? Di sistemi costruttivi adattivi, di pensare, appunto, alle costruzioni servitizzate come un servizio, oppure stiamo parlando di ricostruire degli oggetti, ovviamente di costruire milioni di case come facevano i bulgari negli anni 60-70, perché poi, come dire, anche questa iconologia o iconografia, diciamo, dei sistemi costruttivi che è fabbricati in legno, che in realtà somiglia nel confraccionale negli anni 70, in conglomerato cemento in salmato, ma insomma... Ecco, allora, per andare ovviamente verso una conclusione, che cos'è però la fabbrica 4.0? Io credo che l'errore principale che noi commettiamo è parlare di fabbrica, ma in realtà il 4.0 non è una fabbrica, è quello che appunto i tedeschi chiamano di farnetzung, cioè la rete è la digitalizzazione, diciamo, in tempo reale, di una catena di fornitura dove nel rapporto uomini e macchine la catena ricomprende anche il cliente finale, può iniziare, se vogliamo ricondurre al nostro settore. Questo è un fenomeno, come dire, di cui in realtà anche gli stessi tedeschi non hanno piena cognizione, nel senso che sono apprendisti stregoni, infatti noi abbiamo, diciamo, se voi andate su Google e digitate sotto la voce immagine Frau Merkel o Dr.in Merkel e Industrie 4.0 trovate molte immagini dove la dottoressa Merkel si vede insieme agli autonomi di varia natura, eccetera, eccetera, però in un numero recente di De Spiegel appunto di settembre trovate la manina di uno di questi autonomi che solleva l'impiegato del suo posto di lavoro e entriamo nel mondo jobless. Infatti, adesso io penso che nel prossimo futuro anche con riferimento alle costruzioni con Michele Tiraboschi e Francesco Seghezzi si possono fare dei ragionamenti perché, vuol dire, quello è il tema di fondo del 4.0 e non altro. E infatti in questo 4.0 sì, l'uomo è al centro ma in realtà è anche molto decentrato come si vede nella parte destra di questa figura e allora noi dobbiamo, secondo me, sia sulla transizione digitale sia su quella energetica cercare di rifugire dei luoghi comuni perché noi diamo per ovvi diciamo degli assunti che non lo sono e se lo sono in termini di tendenza generale andrebbero interrogati meglio perché la mia impressione è che appunto come dire, da una parte sottovalutiamo quello che potrebbe essere nel senso del cantiere connesso ma dall'altra parte sopravvalutiamo invece dei convincimenti che poi in realtà probabilmente sul medio e lungo periodo verranno messi in discussione giustamente Bill Gates diceva noi tendiamo a sopravvalutare l'innovazione a due anni e a sottostimare quelle a dieci anni e questo è un problema quindi allora questa cultura industriale che noi chiamiamo BIM ovviamente in maniera puramente evocativa è assolutamente riduzionista che cos'è? concerne l'oggetto della produzione cioè come cambia il prodotto immobiliare il prodotto infrastrutturale come incide sulle catene di fornitura e ovviamente infine invece cliente utente significa come modificherà l'identità degli attori per cui espressioni come centralità del progetto purtroppo sono espressioni retoriche da questo punto di vista e allora naturalmente c'è un elemento fortemente inquietante perché naturalmente c'è un tema che è quello cognitivo si parla di non solo di edificio cognitivo ma anche di edificio intuitivo nel senso che come dire noi abbiamo oggi la possibilità di ricondurre in termini computazionali i dati che otteniamo dagli edifici che rappresentano la vera ricchezza nel futuro la vera fonte di profitto in questo settore in termini di machine readable readable cioè praticamente possiamo fare sì che questi grandi mole di dati siano elaborabili da strumenti che appunto consentono di inferire dei fenomeni Carlo Ratti per primo l'ha dimostrato ecco allora io penso che come dire il 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 viaggio quello che appunto l'amico Dave Field chiama journey e dice BIM non è una destination ma un journey e allora sostanzialmente il problema è noi dobbiamo da una parte creare grandi immaginari e dall'altra parte con altrettanto realismo dobbiamo sapere che tutti questi processi sono molto lenti e soprattutto saranno molto positivi naturalmente il problema è spiegare bene nel mercato di cosa si tratta cercare di orientare il mercato ma questo mercato non è un mercato di poteri forti è un mercato di poteri deboli tutte le rappresentanti sono rappresentanze decimate voglio dire dai professionisti in termini soprattutto dei professionisti semmai sono aumentati il numero ma il loro reddito è drammaticamente calato ma soprattutto da produttori voglio dire facciamo dei nomi ma Assobeton da 300 associati è passato a 30 Andil negli ultimi 8 forse dal 2008 al 2007 ha perso il 70% del mercato e altri allora ovviamente noi abbiamo questo grande problema a un mercato distrutto da una guerra prospettiamo rivolgimenti altrettanto impressionanti che vadano a incidere sull'identità è ovvio che questo mercato è inconsapevole di tutto questo e allora forse qualche cosa possiamo ottenere oppure se non diciamo così creiamo un'iniziativa sistemica beh questo mercato lo metteremo ancora più in difficoltà Ance recentemente ha promosso una filiera unitaria delle costruzioni in questa filiera io credo che il tavolo della digitalizzazione debba avere un ruolo importante però veramente dobbiamo ragionare in termini sistemici in un paese dove non ci sono diciamo grandi player che possono orientarlo come le società di servizi di ingegneria nel Regno Unito o le grandi imprese di costruzione in Francia che devo dire per esperienza diretta decidono il mercato e lo fanno insieme questo naturalmente potremmo chiamarlo logica di cartello potremmo chiamarlo rigopolio ma insomma il generale De Gaulle come dire non è vissuto per niente grazie ringrazio ringrazio il professor Ciribini per il suo intervento che ma al solito ha fornito molti spunti di riflessione sulle commissioni che il settore delle costruzioni inizia ad avere con altri settori quelli della meccanica ma non so e delle prospettive che a livello europeo ci stanno prende